Questa è una tappa, mica? Ti ho cercato, ma te la fanno spento. Ho saputo tutto, c'è una domanda che ti devo fare. Pure tu? Ah, pure io. Sarebbe meglio che questa domanda te la faccio prima che sia troppo tardi. Dimmi. Ci dobbiamo sposare io te o no? Così mi pare. E dimmi, come pensi che possa durare questa cosa? Ogni volta che c'è un problema devo provare l'appiare per trovarti. Mettiamo subito in chiaro come sono le cose, mica. Io sposo se e non la sua famiglia. La cosa che ci siamo uniti è solo il letto. Il business? Ognuno ha il suo. Che avevo vero quando abbiamo iniziato a vederci e non ho cambiato idea. Infatti questo già lo sapevo, non ho da aggiungere nulla in mezzo. Ma il problema è differente. Quale sarebbe il problema? No, perché io, a parte il fatto che la polizia se ne vuota 300 kg della mia cocaina, altri problemi non ne vedo. Però magari mi sbaglio, eh. Io nei tuoi affari non ci voglio entrare, ma questa feola è una preoccupazione grossa. E se quando stai in casa in anziché appoggiarti al tuo marito a chiedergli consigli di tu scappi, io perciò perché non possiamo andare da nessuna parte, perché prima di tutto l'amore è fatto di fiducia. E tu di fiducia i miei non ne hai. Parli bene te, eh. Lo sai perché parli bene? Perché so è un uomo. E gli uomini hanno un grande privilegio. Se ne vanno guardare le spalle dappertutto, tranne che a casa loro. Per le donne non funziona così. Per le donne è differente. È esattamente il contrario. Il nemico peggiore è quello che subito lo torna a casa loro. Quello che ti dice che ti vuole bene e ti fotte due volte. Quello che ti fa sempre stare un passo in esso, sempre dievole, sempre dipendente. Se è questo che cerchi da me è svelata parrocchia. Hai ragione. È quello che succede in tutte le famiglie. È questo il tipo di donna che mio padre non è voluto prendere. Una moglie che si fa mettere i piedi in testa, che pensa di valere meno di me. Che fa quello che dico io quando dico io. Ma io ho scelto te, non un'altra. Ti ho scelto contro la mia famiglia, con tutte le forze che ho. E lo sai perché? Perché in questo mondo pieno di spazzatura. Ho visto quello che non ho mai visto prima. Una cosa che brilla. E quella cosa se ne fotte.